Estate le poranese con vira carbone, bellezza da bere, tisane, infusi ed estratti per il tuo benessere, oserei dire un benessere liquido? Sì, il benessere liquido perché proprio attraverso la forma liquida poi si arriva a un benessere della forma solida quindi del nostro corpo. Io dico sempre che il segreto per stare in forma, a parte tanta buona fortuna naturalmente che auguro a tutti, è alimentarsi in modo sano ma bere moltissimo attraverso l'alimentazione, la frutta e la verdura, attraverso i frutti liquidi che sono i centrifugati, gli estratti e le verdure liquide che sono a mio avviso l'ultima frontiera della nutrizione. Cioè noi beviamo le verdure attraverso l'estrazione del succo ed è il mio suggerimento, mio e dei nutrizionisti di Buongiorno Benessere. Diciamo che non c'è nulla di nuovo, noi riscopriamo le nostre tradizioni, le nostre origini, il vivere secundum naturam si potrebbe dire. Assolutamente sì, è naturale che viviamo in un ambiente molto inquinato, poco puro, per cui quando io suggerisco i famosi estratti e centrifughe da bere e mi raccomando, insomma, verifichiamo che questi ortaggi, questa verdura e questa frutta non siano troppo trattati, che siano a chilometro zero. Perché bere queste sostanze piene di nutrienti è importantissimo, ma anche scegliere prodotti di grande qualità, non troppo trattati, è altrettanto importante. Per concludere, un modello decisamente opposto rispetto alla logica ormai imperante al modello americano del fast food? Beh, il fast food, per carità, io non voglio demonizzarlo, magari una volta al mese un panino con l'hamburger si può anche mangiare, però in linea di massima noi dobbiamo abituarci a volerci bene tutti i giorni mangiando in maniera intelligente, come diceva lei, come facevano magari i nostri nonni, no? Non a caso, soprattutto nei paesi, noi vediamo una grande longevità. Perché? Perché non ci sono contaminazioni da fast food e, diciamo, alimenti troppo trattati.